Musica Amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per le pagine sportive del TG Noi che si apre con il calcio e con la lucchese. Dunque si è concluso dopo dieci giorni il ritiro dei rossoneri nel cuore della Valle del Serchio nel ritiro del ciocco. Dopo dieci giorni intensi e si spera anche proficui, è terminato il ritiro della lucchese al ciocco. Nel verde, al fresco della Garfagnana, relativamente nei primi giorni, la truppa rossonera ha lavorato soda agli ordini di un mister gorgone e parso tanto motivato quanto entusiasta di questa nuova esperienza calcistica e della notevole chance che si gioca all'ombra delle mura. Ora, detto che la Rosa è ancora una sorta di stazione termini tra chi va, chi arriva e chi potrebbe arrivare, il tecnico ha cominciato a plasmare una squadra che dovrà essere pronta alla battaglia del campionato e di un girone che si profila ricco di avversari e di spessore. Ufficialmente la data di inizio del campionato è ancora quella del 27 agosto, ma non ci scommetteremo un centesimo che si andrà al 3 settembre se non addirittura al 10. È la solita estate italiana fatta di esclusioni, ricorsi e contro ricorsi. Quindi calma e gesso. Archiviato il ritiro del ciocco, dove va detto in questi 10 giorni sono arrivati elementi del calabrio di Gucker, Malik, Fedato, Russo e Guadagni, mentre Tiritiello è stato blindato, la lucchese proseguirà la preparazione nei prossimi due giorni sul terreno del bui di San Giuliano Terme. Poi Gorgone concederà alla truppa un tranquillo weekend di riposo. Si tornerà a lavorare da lunedì 31 luglio, quando sarà alle viste anche la prima uscita stagionale, mercoledì 2 agosto, ore 20 e 30, lucchese in campo al Necchi Balloni di Forte De Marmi contro Real Forte. Seguiranno poi altri test interessanti, sabato 5 agosto, ore 18 a Poggi Bonsi e giovedì 10, ore 16 e 30, ad Alto Pascio, contro il Tau di Simone Venturi. Nel frattempo sarà ancora mercato per completare una squadra in grado di tornare a fare la voce grossa, come manca ormai da troppo tempo, che quasi lo si è dimenticato. Dicevamo del mercato e c'è un nuovo innesto per la lucchese. La società rossonera ha definito in queste ore l'ingaggio di Mattia D'Alessandro, classe 2004, che arriva dalla Turris. Il giovane attaccante ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Sempre la lucchese che ha presentato tramite i suoi canali social le nuove maglie in vista della stagione 2023-2024, è stato diffuso un video di 34 secondi che stiamo per proporvi sicuramente interessante. Le maglie sono quella classica rossonera con bande molto larghe, la seconda bianca da trasferta con sfumature cremisi e la terza nera con banda orizzontale bianca, rossa e nera. Ma vediamo questo video. Ciao. E' mercato anche in serie D. Il Tau Calcio Alto Pascio ha ingaggiato Alessio Biagioni, difensore classe 2003, difensore centrale di personalità e con notevoli doti fisiche e tecniche. Tra l'altro, nonostante la giovanissima età, ha già una grande esperienza a Cascina, 30 presenze nella stagione 21-22, lo scorso anno a Pistoia con 25 gettoni. Biagioni ha sottoscritto già l'accordo con il Tau ed è già a disposizione di Mr. Venturi. Per la prima volta Viareggio ospiterà la Final 8 Serie A di Beach Soccer. Non solo al Beach Stadium Matteo Valenti, che come vedete si sta preparando, si disputerà anche la finale scudetto femminile, la Final 4 Under 20 e play-off della pool promozione di Serie B maschili. Tutto questo per una settimana che farà diventare la città di Viareggio, davvero capitale italiana del Beach Soccer, da venerdì 28 luglio a giovedì 3 agosto. L'Atletica è confermato, Marcel Jacobs salterà anche i campionati italiani del fine settimana a Molfette e punterà tutto ai mondiali di Budapest ad agosto. A questo punto il grande favorito sui 100 metri diventa il signore alla sinistra nella foto, accanto proprio al campione olimpico, ovvero il massese Samuele Ceccarelli, che quest'anno si è migliorato fino a correre 100 in 10 e 13. Siamo ai motori, un fine settimana sicuramente interessante anche per Paolo Andreucci che correrà il Rally di Roma Capitale. Paolo Andreucci, portacolori della scuderia M33 Skygate, sarà al via del Rally di Roma Capitale al volante della Renault Clio Rally 3 del Team Autosport Italia gommata MRF Tires. A dettare le note ci sarà come di consueto Rudy Briani. Ucci ha accolto con grande piacere l'invito di MRF di correre al Rally di Roma Capitale sulla nuova vettura di Renault. Del resto il campione Garfagnino conosce la gara a Capitoline ed inoltre ciò costituirà un momento importante per lo sviluppo delle gomme, oltre che per conoscere la nuova Clio Rally 3. Da tempo Ucci sta portando avanti lo sviluppo delle gomme, sia su terra che asfalto, e gareggiare a Roma gli permetterà di acquisire numerose informazioni. In occasione di questo importante evento saranno effettuati dei test pre-gara per arrivare quanto più possibile preparati alla corsa, soprattutto per comprendere al meglio il comportamento delle gomme sulle lunghissime rocca di cave Subiaco e Santo Padre, rispettivamente di 32 e 29 chilometri. Le PS laziali saranno dunque una prova infocata anche per Lucchesi Junior, che ritroverà al suo fianco Chiara Lombardi, e sarà interessante per il giovane pilota di Banni di Lucca leggere riscontri cronometrici confrontandoli con i protagonisti del campionato europeo. A dare ancora più valore alla competizione in ottica campionato vi è il fatto del coefficiente maggiorato di 1,5 rispetto al punteggio. La gara, organizzata da Max Randin, è un palcoscenico molto importante, con grande visibilità oltre al fatto che permetterà agli equipaggi lucchesi di poter gareggiare nei luoghi più affascinanti della capitale. Attraversare ed effettuare la prima prova venerdì sera con vista sul Colosseo, davanti a milioni di turisti, sarà un'importante vetrina e un formidabile veicolo di promozione per tutto il movimento realistico. La corsa proseguirà poi nel Fusinate, con due giornate dall'alto tasso adrenalinico, sabato 29 e domenica 30 luglio, con altre 12 prove speciali, tra le quali la nuova Latri e le due lunghissime già ricordate Rocca di Cave su Biaco e Santo Padre. Arrivo a Fiuggi domenica alle 18. Il capannori basket femminile adesso è una realtà. Prende corpo il progetto pensato e sviluppato durante la primavera con la società del presidente Alberto Bernicchi, che dunque ha deciso di raddoppiare l'impegno nel mondo della pallacanestra, affiancando alla squadra maschile, iscritta al campionato di promozione, adesso anche una formazione femminile. La squadra del capannori basket femminile sarà allenata da Matteo Di Giambattista, un coach molto giovane, ma che vantaggia una discreta esperienza in panchina dopo un biennio a Legnaia, Firenze. Si sono conclusi i campionati del batti e corri, parliamo di baseball e softball 2023. Nella serie B di baseball, sul diamante dell'Acquedotto, gara in influente tra le nuove Pantere Lucca, ormai certa del secondo posto, e Drex Capannori. Un derby vinto dagli ospiti capannoresi, ma a Mauri Suarez ne ha approfittato per dare spazio a tutti gli elementi finora meno utilizzati. Diverso il discorso nella serie A2 di softball, una sconfitta, 0-2, una vittoria, 5-4 per le nuove Pantere di Bosi contro l'Ogbringe Bologna. Risultato tuttavia che non contava, poiché la squadra lucchese dovrà giocare il play-out contro le Sarde del Nuoro il 3 settembre in casa a Carraia e la settimana successiva il ritorno in Sardegna. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il telegiornale prosegue con la terza ed ultima parte. Grazie.